440 chilometri, 10.000 metri di dislivello positivo, sono questi i numeri della Veneto Trail, organizzato per la seconda volta dall'ASD Superbike Pozzetto di Cittadella, che vedrà la partenza sabato 22 giugno alle 8 nella centrale piazza Piero Bon della città murata. Una stupenda avventura che conta già 180 iscritti, 30 da tutta Europa e i restanti da varie regioni d'Italia. Gli iscritti decideranno se partire con attrezzature minime e farlo tutto ad un fiato, oppure portarsi borse, quindi backpacking, quindi portarsi tutta l'attrezzatura necessaria per anche dormire la notte all'aperto, come sarebbe in realtà il vero spirito di questo tipo di eventi. Un segnale GPS traccerà per sicurezza il percorso di ogni partecipante in un evento non competitivo. Quel che già si sa è che il più bravo riuscirà a percorrere tutti quei chilometri in una trentina di ore, senza fermarsi per la pausa notturna. La bellezza è trovarsi da soli in mezzo ai boschi, in mezzo alle montagne, fuori da tutto quello che ha creato l'uomo, dall'asfalto, dalle abitazioni, è proprio un'avventura con se stessi.